Buonasera, ben trovati cari amici, nuovo appuntamento con Confagricoltura News. Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione, poi ci fermeremo per un po' di vacanze estive. Prima però è tempo di parlare di bandi, lo facciamo con Gianni Azzini dell'Ufficio Tecnico di Confagricoltura che è tornato a trovarci. Ciao Gianni, ben trovato. Due bandi del PSR, due bandi di recente emanazione, uno dedicato alla produzione di energia, l'altro dedicato alla riconversione dei sistemi irrigui. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Sì, il primo bando è legato alla produzione di energia, un bando che permette sia alle aziende agricole singole che società di poter accedere a questi investimenti che permettono la realizzazione di nuovi impianti, di esempio cogenerazione di impianti di biogas o di ammodernamento di quelli esistenti, impianti legati appunto alla produzione di energia che permettono alle aziende di migliorarsi in questo settore. La spesa minima è 25 mila euro con un contributo del 40%, mentre il bando legato alla irrigazione è un bando che permette alle aziende di migliorare i propri sistemi di irrigazione avendo un risparmio energetico, un risparmio idrico diciamo molto importante. Questo bando permette la riconversione di sistemi di irrigazione a scorrimento a sistemi più efficienti, quali possono essere pivot, possono essere manichette per la microirrigazione, possono essere sistemi come rotoloni ad alta efficienza per gestire meglio l'irrigazione, permettono anche la riconversione dei propri terreni, la sistemazione dei terreni per l'installazione di questi sistemi e inoltre permettono la possibilità di installare software o misuratori di portata per migliorare appunto il consumo idrico nell'azienda agricole. Il contributo sempre è pari al 25 mila euro, il bando si chiuderà a ottobre e con faricoltura sia per il bando del risparmio energetico e irrigazione è disponibile per sostenere l'azienda agricola. Certo, per dare chiarimenti nel caso ci fosse bisogno per poi accedere a questo bando. Va bene, siamo in chiusura, grazie a Gianni Azzini, ringraziamo anche i nostri telespettatori, come detto noi ci fermiamo per un po' di vacanza, Confagricoltura News torna a settembre. Grazie e arrivederci. Arrivederci.